in diversi libri sulla psicoterapia lei cita anche l'illusionismo con cui si confronta da cultore da ormai diversi tanti anni tantissimi anni io stesso affascinato peraltro dai suoi parallelismi tra ciò che avviene in psicoterapia e ciò che avviene sulla scena dell'illusionismo sono andato a fare un corso da illusionismo sono assolutamente un direttante però l'ho trovato molto utile per poi il mio lavoro in studio volevo chiederle se può dirci che cos'è secondo lei che hanno in comune illusionismo e psicoterapia nel lavoro dello psicologo e dello psicoterapeuta l'illusionismo cioè l'arte dei prestigiatori ha molti aspetti in comune con la psicoterapia e ne parlano molti autori dell'ambito costruttivista strategico Milton Erickson fa spesso riferimento ai giochi di prestigio e lui è quello che coglie forse meglio di tutti il nocciolo della questione quando paragona la sua ipnosi al controllo dei fulcri dell'attenzione lui dice tutta l'ipnosi si riduce al controllo dei fulcri dell'attenzione allora non c'è nessun'altra attività umana come quella dell'illusionista che riveli quanto sia difficile ma efficace ottenere il controllo dell'attenzione efficace dopo che l'hai ottenuto il prestigiatore sposta l'attenzione altrove rispetto al locus al posto dove effettua la manovra che deve essere nascosta e lo fa senza che l'osservatore si renda conto che la sua attenzione viene catturata e spostata altrove quindi c'è un doppio spostamento dell'attenzione il primo spostamento dalla mano che nasconde la pallina e l'altro spostamento dal fatto che viene nascosto ok spostamento dell'attenzione su spostamento dell'attenzione il concetto di spostamento dell'attenzione o di spostamento dei fulcri dell'attenzione è centrale in tutta l'ipnosi ericksoniana anche nell'ipnosi classica se vogliamo perché quando Charcot e i company spostavano il sintomo della paziente isterica la paralisi isterica dal braccio destro al braccio sinistro e poi la mano sinistra e poi il mignolo sinistro e poi l'ultima falange del mignolo sinistro era comunque uno spostamento dell'attenzione una focalizzazione dell'attenzione che naturalmente Milton Erickson ha traslato la sua ipnosi in tutt'altra forma lo spostamento dell'attenzione è anche quello che stava alla base delle prime applicazioni del modello statunitense della scuola di Palo Alto fatte nella scuola di Arezzo di Giorgio Nardone la piruetta e queste manovre con le quali il paziente riusciva a essere portato altrove rispetto a dove c'era la sua tentata soluzione fondamentalmente il primo la prima analogia tra illusionismo e psicoterapia breve di matrice ericksoniana e costruttivista strategica è questo lo spostamento dell'attenzione poi ce n'è un altro ed è il fatto che l'illusionista per mettere in scena i suoi giochi di prestigio che sono simulazioni perfettamente persuasive di violazioni delle leggi della natura deve impostare nella testa dello spettatore il problema in una maniera erronea cioè il prestigiatore fa sì che lo spettatore risolva il problema sbagliato cioè pone le premesse di un problema dopodiché l'osservatore lo spettatore vede quel problema e muovendosi all'interno di quelle premesse pur utilizzando la logica più rigorosa non potrà risolvere il problema per cui alla fine accade un evento che contraddice le premesse e quindi ne scaturisce la sorpresa lo stupore la meraviglia non si capisce com'è possibile che sia accaduta questa cosa non si può capire perché questa cosa non è mai accaduta questa cosa non è mai accaduta perché quello che l'osservatore aveva visto come premessa non era ciò che è accaduto quindi all'interno di una premessa vengono inseriti degli errori invisibili nascosti che cosa vuol dire vuol dire che il prestigiatore che inventa un gioco di prestigio che studia i giochi di prestigio si abitua a vedere le cose da prospettive molto simili a quelle corrispondenti alla realtà cioè vede le cose con una grande affinità alla verità però le vede con uno scarto millimetrico tale per cui il problema può anche essere impostato e letto in un'altra maniera allora siccome nella terapia breve non c'è soltanto il linguaggio c'è anche la scelta l'adozione di mosse di prescrizioni di contenuti che devono essere veicolati allora bisogna selezionare anche questi per farlo occorre partire da premesse che devono essere molto simili quasi sovrapponibili a quelle del paziente però non possono essere identiche altrimenti non possiamo aiutarlo dobbiamo riuscire a impostare il problema che lui ci pone in una maniera nuova e per farlo bisogna riuscire a pensare fuori dagli schemi se vogliamo rompere i paradigmi anche qui cosa abbastanza ardua credo che l'illusionismo sia un'ottima palestra per chi vuole imparare una forma di problem setting si chiamano con locuzione anglosassone allora per imparare una forma di posizionamento delle premesse di un problema che sia svincolata dal livello istantaneo immediato e banale della lettura dei fatti è una risposta abbastanza fumosa però fumo e specchi fa parte dei giochi di prestigio ok non dico fantastico ecco dopo sto mio commento su me stesso se vuoi lo tagli vediamo vediamo perché da un colore esatto di realtà esatto come ultima domanda le vorrei chiedere realtà un suggerimento per perché ci ascolta immagini di dover pensare a un esercizio esercitazione a suggerire a gli psicologi in generale gli psicoterapeutiche che ci ascoltano che permetta loro di allenare una competenza allenarla nella vita quotidiana di tutti i giorni di fare una pratica al di fuori dello studio competenza che può essere loro utile per poi il lavoro in studio con i propri pazienti quale sarebbe questa competenza e quale sarebbe l'esercitazione che gli suggerirebbe ma posto che con un mestiere di questo tipo qua bisogna sempre sempre imparare e quindi ci sono varie competenze che possono essere sviluppate ne suggerisco alcune la prima che mi viene in mente è iscriversi a un corso di pronto soccorso perché questo sviluppa una capacità di dare priorità ad alcune cose ok questo è la forma mentis del soccorritore ci sono alcune funzioni vitali da preservare di tutto il resto c'è uno se ne può occupare dopo è una gerarchia di valori se vogliamo di importanza ok questo è una forma mentis che viene insegnata attivamente e passivamente si acquisisce quando si fanno i corsi di pronto intervento pronto soccorso che possono essere utili a tutte le persone un'altra pratica molto utile è la musica la musica d'insieme fatta assieme ad altre persone chi non sa suonare uno strumento può andare a cantare in un coro che cosa vuol dire cantare in un coro vuol dire essere capaci di ascoltare perché non puoi entrare nel momento sbagliato essere capace di fondere la tua individualità assieme a quella degli altri perché non puoi spiccare fare la prima donna sei in un coro non sei il soprano o il tenore sei in un coro la capacità di ascoltare che cosa è una dissonanza che cosa è una consonanza la capacità di eseguire di obbedire se vogliamo alle indicazioni del direttore del coro che sono quasi sempre di tipo non verbale la capacità di affinarsi affinare una propria sensibilità sulle questioni ritmiche sulle pause sui silenzi in generale sarebbe ottima cosa per ogni terapeuta coltivare la propria voce ci sono dei professionisti oggi vocal trainer che si occupano della voce la voce in elemento è uno strumento musicale la voce e in terapia se uno la usa male si priva di una gran componente persuasiva retorica di influenzamento quindi l'uso se posso la frequenza di un coro può essere una pratica molto interessante sempre per rimanere l'ambito così artistico spettacolare rifacendomi a quello che dicevamo in precedenza sui tempi comici il cabaret questa forma di spettacolo sempre più rara adesso ma in televisione ce n'è molte il cabaret l'artista di cabaret è sempre uno che improvvisa un po sul canovaccio in base a quello che succede in platea e questo sensibilizza sulla nozione di tempi comici e di tempi di reazione il terapeuta non può prendersi un'ora prima di rispondere al paziente ok il paziente a volte gli chiede esige una risposta e le risposte naturalmente non devono essere date a caso altrimenti non è psicoterapia ma è parlare al bar tra amici allora bisogna anche imparare a rispondere in maniera rapida questa cosa è difficile dove la si può impararla si può imparare dagli artisti del cabaret e quali testi studiare dicevamo prima Seneca Churchill le sceneggiature dei film ci sono dei film hollywoodiani o di altre produzioni che sono dei capolavori dal punto di vista della sceneggiatura alcuni possono essere studiati spezzettati perché bisognerebbe a volte impararli a memoria soprattutto nei dialoghi no? gli sceneggiatori quelli grossi quelli importanti sanno come costruire un dialogo il loro scopo è influenzare lo spettatore in modo da fargli avere una reazione emotiva un cambiamento una illuminazione un insight qualche cosa di questo tipo allora il dialogo nei film fatti bene è molto formativo e quindi questa è un'altra cosa che si deve studiare naturalmente poi chinarsi umilmente sullo studio dei classici dei classici intendo degli autori che sapevano parlare che sapevano mettere in fila delle argomentazioni e che sapevano e qui concludo anche fornire dei contenuti e non solo una bella forma retorica o sofistica o da giochi di prestigio fatti con le parole perché sapevano Seneca le sacre scritture un concentrato di psicologia che merita continuamente come una miniera no? la Bibbia, l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento scavare in questi depositi di sapienza chinandosi umilmente sui testi e fare un lavoro da studenti anche se uno ha 50 60 70 80 anni non si finisce mai di imparare no? ecco e sui contenuti forse si potrebbe spendere qualche cenno sul fatto che in psicoterapia credo sia necessario sempre ricordare che c'è a una componente etica che non può essere banalmente ridotta a una sorta di relativismo etico per cui va bene tutto, noi viviamo in un'epoca nella quale vige questo monito che non si deve giudicare no? bisogna stare molto attenti perché può essere scivolosa la cosa, se viene da me un paziente che ha mal di pancia io in quanto medico devo capire se ha un appendicite perché se non lo capisco gli va in peritonite e muore allora io devo giudicare nel senso devo diagnosticare, devo avere le idee chiare, non posso dire sarà quel che sarà allora anche in terapia psicologica e in psicoterapia il terapeuta deve avere una sua etica deve sapere esattamente che cos'è il bene e il male del paziente altrimenti si rischia grosso Dottor Rampin, grazie, è stato veramente illuminante, ci ha dato anche qualcosa che potremmo coltivare e far crescere grazie a voi per il tempo che corre e di nuovo spero di averla di nuovo per altre interviste, altre formazioni grazie grazie bocca al lupo grazie 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 grazie